Sarà dedicata alle figure di Don Carlo De Cardone e Don Luigi Nicoletti la settimana della cultura calabrese, giunta alla nona edizione, promossa dalla Universitas Viva Viensis e quest'anno proposta con una formula itinerante articolata tra Morano Calabro, San Pietro in Guadano, San Giovanni in Fiore e Cosenza. Partiamo da venerdì 3 agosto fino a lunedì 6, in ricordo di Don Carlo De Cardone, questo grande sacerdote sociale che quest'anno compie 60 anni dalla morte. Poi gli ultimi giorni di agosto, cioè venerdì 31 e sabato 1 settembre, saremo a San Pietro in Guadano, altro luogo decardoniano per eccellenza. Poi domenica 2 e lunedì 3 settembre saremo invece a San Giovanni in Fiore, perché ricordiamo i 60 anni della morte anche di un altro prete sociale molto importante che è Don Luigi Nicoletti. E poi questa super settimana di quest'anno si sposterà a Cosenza negli ultimi giorni di settembre, perché ambedue, De Cardone e Nicoletti, hanno operato a Cosenza. Quindi crediamo che la formula possa essere sempre valida, le passeggiate, gli incontri sui libri, le mostre, i giochi tradizionali, vedremo le stelle. La cultura ha bisogno di più incontri, ha bisogno di più persone, ha bisogno di uno slancio maggiore. Salvatore Bruno per la CNews24